Onestamente i dibattiti sono aperti, è anche giusto che sia così perché abbiamo fatto metà campionato benissimo e adesso stiamo facendo un giorno di torno meno bene quindi è giusto valutare tutte le situazioni. Il fatto di essere una squadra più compatta assolutamente sì, credo che in questo momento serva ancora più attenzione, ancora più determinazione, stiamo subendo qualche gol di troppo e probabilmente concretizziamo meno di quello che potremo fare e quindi è chiaro che essere molto più determinati, molto più attenti in certe situazioni deve essere un obiettivo soprattutto per la partita di domani. Io credo che le caratteristiche determinanti per essere squadra e per essere una squadra forte siano principalmente tre, la qualità del gioco, lo spirito del gruppo e mettere in campo un grande cuore. Con queste caratteristiche chiaramente abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte. Se veniamo un po' a meno in tutte queste tre cose è chiaro che poi dopo diventa più difficile ottenere certi risultati e soprattutto risultati importanti e soprattutto centrare un obiettivo importante come quello dove vogliamo arrivare noi. Quindi è chiaro che dobbiamo alzare la nostra qualità di gioco sicuramente e dobbiamo avere un grandissimo spirito di sacrificio, un grandissimo spirito di collaborazione, di comunicazione, tutte quelle cose che fanno sì che una squadra possa essere attenta e determinata per 95 minuti, questo senz'altro. Per quanto riguarda la presenza di Ibra sappiamo tutti quanto possa essere importante la sua presenza sia dal punto di vista tecnico, soprattutto dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista caratteriale, del carisma, della personalità, di quello che può fare in campo, di quello che può dire in campo. Quindi contenti che lui possa essere a disposizione, è pronto, è determinato come sempre quindi sicuramente ci aiuterà. Spesso durante la stagione mi avete fatto domande sul futuro o sulle valutazioni, le valutazioni si fanno a fine stagione, i conti si fanno solamente alla fine. Quelle che faremo, quelle che stiamo facendo oggi, che faremo anche domani sono ancora valutazioni parziali, quello che ci dirà il campionato ce lo dirà il 23 maggio e poi si faranno le valutazioni. Per quanto riguarda il mio futuro io sono assolutamente convinto di quello che sto facendo, convinto della bontà del lavoro, convinto della bontà della squadra, l'appoggio della società è totale, quindi vado avanti per la mia strada. Il nostro futuro adesso è domani, non può essere rivolto a altre situazioni o a un futuro troppo lontano. Noi abbiamo sempre lavorato, io lavoro sempre per cercare delle soluzioni, non per cercare dei colpevoli. C'è la partita di domani, che è una partita che vale tanto, perché è chiaro che veniamo da una settimana negativa, ma non vogliamo che questa settimana finisca in modo negativo. Quindi concentriamoci sulla partita di domani, chiaramente abbiamo portato delle soluzioni per la partita di domani dove vogliamo avere delle situazioni vantaggiose, dove vogliamo essere dentro la partita con grande attenzione e con grande qualità per poterla vincere fino alla fine. Abbiamo una partita complicata, difficile contro un avversario che copre bene il campo, che ripartirà in contropiede e noi dobbiamo essere a squadra dall'inizio alla fine.